Ora scontro in aria, mani al collo tra i due giocatori, avanzo il numero 2 a Brizzi, il direttore di gara non si accorge di nulla, il direttore di gara ancora a scintille tra i due, si accorge il direttore di gara dell'azione, c'è bisogno di intervento degli organizzatori, Capannello intorno al giocatore, ora Mazzesi, il direttore di gara rimane da solo al cerchio centrocampo, non ci sono giocatori intorno a lui, li va a cercare ora. Punta il numero 2, va a pacificare, non prende sanzione di disciplinare, il direttore di gara, era distratto. Punta il numero 2, va a pacificare, non prende sanzione di gara, è distratto. Su due fronti le proteste in campo, da una parte del Sio che parla con Mazzesi e poi dall'altra parte a Brizzi insieme a Pantaleoni. Grazie. 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 Grazie a tutti. termina qui il match fischio direttore di gara 1 a 0 a favore del super ciccio mentre proseguono le proteste dei giocatori sulla decisione direttore di gara termina qui dunque lo sport city il super ciccio vince 1 a 0 grazie al gol di princicali al decimo del primo tempo la macchina non ci sono più difficile